Stop alla scerbatura che ha un costo che deve essere effettuata ciclicamente con la conseguenza peraltro di non riuscire a tenere costantemente pulito l'intero territorio comunale. A Ribera si sperimenta un approccio diverso al problema dell'erbaccio che infesta nel centro abitato rispetto al classico metodo dell'utilizzo del decespugliatore. L'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio di un piano di diserbo che consentirà di migliorare l'aspetto estetico della città ma anche di eliminare le conseguenze che sul piano igienico-sanitario sono legate alla presenza dell'erbaccio. Riteniamo che la soluzione migliore, dichiarano oggi il sindaco Matteo Ruvole e l'assessore al decoro urbano Giuseppe Maria Sgro, sia quella che prevede l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante. Intervenire per tempo, evitando il proliferare dell'erbaccio. Questo prevede il piano di diserbo per il quale l'amministrazione si avvarsa della professionalità di Ciro Miceli, perito agrario e consulente fitosanitario, che oggi evidenzia come Ribera sia il primo comune in Sicilia ad adottare questa metodologia del diserbo ecocompatibile attraverso l'uso di prodotti fitosanitari in ambito urbano che devono conciliare l'esigenza di un'azione efficace per il decoro, la salubrità e la sicurezza della città, con la limitazione e la regolamentazione, secondo le prescrizioni normative, dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il piano di diserbo redatto da Ciro Miceli prevede tre interventi nell'arco di un anno, ma si partirà subito. Il primo infatti già questo mese, il secondo verrà effettuato a dicembre 2023, il terzo a marzo 2024, poi il quarto a ottobre 2024, per concludere l'ultimo a dicembre del prossimo anno. Chiaramente ogni intervento di diserbo sarà accompagnato da un intervento di scervatura in modo tale da lasciare il sito pulito. L'obiettivo di questo piano, afferma il sindaco Ruvolo, è triplice migliorare l'aspetto estetico del centro urbano, restituendo al comune un aspetto più curato e accogliente, promuovere la sicurezza dei cittadini perché le erbacce non controllate possono rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale e pedonale in quanto possono ostacolare la visibilità lungo le strade e creare condizioni di scivolosità sui marciapiedi. Infine, preservare l'ambiente. Per tale motivo saranno utilizzate soluzioni sostenibili e rispettose dell'ecosistema locale al fine di minimizzare l'impatto ambientale.